Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento con Spritz, un analcolico ricco di notizie, informazioni politiche come recita la sigla, per parlare di avvenimenti che riguardano la nostra realtà, sia la Bergamasca che la Lombardia. Tratteremo di argomenti che toccano da vicino l'interesse dei comuni, delle comunità montane e dei cittadini. Parleremo con rappresentanti di enti pubblici che a loro volta ci spiegheranno alcuni meccanismi per poter arrivare alla miglior gestione dell'economia pubblica. Ringrazio come primo ospite il Presidente del Bacino in Brifero Montano, il Commendatore Carlo Personeni. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto, visto che ha un lungo curriculum vite, vorrei che lei ricordasse i nostri aspettatori qual è stato il suo percorso che l'ha portato ad essere il Presidente di uno degli enti più importanti. Poi spiegheremo anche nel dettaglio il significato di Bacino in Brifero e quali sono le fonti di finanziamento e a chi sono indirizzate. Sono diventato Presidente del Consorzio BIM in quanto nell'85 ero Sindaco di Santomobono Imania, all'epoca ora Santomobono Terme, nel 90 sono stato riconfermato Sindaco di Santomobono e la Valle Imania mi ha delegato a rappresentare la valle all'interno del direttivo del Consorzio BIM. All'Ecopoca il Consorzio BIM era composto da 13 rappresentanti e più un rappresentante della provincia, quindi 14 persone. Oggi questo si è ridotto a 5 persone con la legge della spending review. Quindi dicevo, i comuni della Valle Imania mi hanno delegato, sono diventato assessore qui al Consorzio nel 1990. Nel 1995 sono stato riconfermato rappresentante della valle e l'Assemblea in cui i miei del direttivo mi hanno nominato vicepresidente. Nel 2000, dopo la morte dell'avvocato Filisetti, morto a gennaio del 2000, nel marzo ho fatto il presidente pro tempore in attesa quale vice di tornare all'Assemblea, nell'Assemblea di marzo i 128 comuni di allora hanno deciso di nominarmi presidente del Consorzio BIM. Quindi sostanzialmente da sindaco rappresentante del direttivo, presidente del Consorzio BIM. E dal 2000, questo è il quinto mandato, sono ancora presidente del Consorzio BIM. Ma nel frattempo lei ha ricoperto anche ruoli a livello nazionale, non indifferenti come presidente di Federvin, se non va derato nel 2008. Sì, nel 2001 ho avuto l'opportunità di entrare in Federvin. Federvin è la federazione che rappresenta i 65 consorzi BIM d'Italia distribuiti in 15 regioni. Nel 2003 da Federvin sono stato delegato all'Osservatorio della Montagna, l'Osservatorio parlamentare all'epoca del Ministro della Loggia. E poi sono diventato presidente di commissione di Federvin, commissione istituzionale. Nel 2006 ho costituito il Consorzio Energetico Enerbi. Poi magari ne riparleremo. L'idea era quella che i consorzi ritirassero energia anziché il sovracanone. Cioè energia anziché risorse. Ma distribuendo questa energia ai comuni, i comuni avrebbero risparmiato sulla bolletta energetica e al Consorzio non cambiavano le risorse perché rimanevano inalterate. Nel 2010 sono diventato a gennaio 2010 presidente di Federvin e lo sono stato fino a luglio 2021 dove ho deciso di non ricandidarmi più. Federvin si occupa evidentemente dei rapporti col Parlamento. Ho avuto la fortuna di partecipare al gruppo interparlamentare per lo sviluppo della montagna come invitato permanente. Quindi diciamo che i problemi sulla montagna ho avuto opportunità di discutere e di sviscerarli diverse volte. Possiamo dire una conoscenza a 360 gradi del meccanismo delle problematiche di tutto quanto riguarda l'economia montana. Parlando invece adesso dell'attuale situazione. Lei il 26 marzo ha convocato l'Assemblea naturalmente in videoconferenza per gli ovvi motivi di sicurezza e ha presentato la sua relazione davanti a 127 membri del Consorzio. In sostanza qual è la sua opinione attuale della politica accanto a attività come la sua? Cioè come vi rapportate con i comuni, le comunità montane e soprattutto con le necessità del territorio? Allora il discorso è abbastanza ampio. Innanzitutto premesso che il Consorzio BIM, quando uno ha questa parola bacino, imbrifero, magari precisiamo che cos'è. Perché uno dice imbrifero si parla di acqua, è vero? Ma imbrifero inteso che la luce è le derivazioni dell'energia, altrettanto vero. Sostanzialmente noi gestiamo risorse. Perché? Perché tutti coloro che deviano acqua per produrre energia idroelettrica devono pagare, oltre al canone concessorio, un sovraccanone. Questo deriva da una legge del 1953 che permette e ha permesso in tutti questi anni di portare risorse ai territori di montagna, alla gente di montagna. Ecco, il Consorzio BIM gestisce queste risorse, finalizzate allo sviluppo socio-economico dei territori di montagna. Nel mio periodo di presidente di Federbi, nel 2012, siamo riusciti ad ottenere la legge 228. La legge 228 elimina la barriera altimetrica, perché nella vecchia legge il sovraccanone veniva pagato dai derivatori d'acqua, soltanto, unicamente quando la derivazione era al di sopra dei 500 metri e non al di sotto. Evidentemente, però, pur essendo queste derivazioni all'interno del perimetro del consorzio, non erano soggettate a sovraccanone. È stata una bella battaglia, una forte battaglia, che il Federbi, per conto dei consorzi, ha vinto all'epoca. I grandi produttori Edisonene l'hanno ricorso e finalmente nel 2021 sono state risolte tutte le cause a livello nazionale e quindi anche le derivazioni al di sotto dei 500 metri devono pagare il sovraccanone. Quindi, riassumendo, il consorzio BIM gestisce queste risorse straordinarie. La risorsa è destinata e di proprietà dei comuni, ma quando nasce un consorzio, a questo punto il consorzio diventa obbligatorio e tutti i comuni devono accettare le decisioni del consorzio. Il consorzio, per diventare obbligatorio, deve avere almeno i due terzi dei comuni che ne fanno parte, devono condividere quest'idea. Il consorzio quindi diventa, come dicevo, in quel caso obbligatorio. A proposito della legge 228, questi sovraccanoni in più del 2012, sono entrati e entrano 2 milioni all'anno, il che non è poco di risorse e abbiamo preso gli arretrati dal 1 gennaio 2013. Possiamo dire che lei è la cassaforte praticamente per quanto riguarda una certa economia che va a toccare la realtà dei comuni, poi ci svilupperà anche il discorso comuni, comunità montane e varie associazioni che abbisognano per quanto riguarda la loro professionalità. Ma vorrei che lei mi toccasse anche il discorso, visto che nell'intervento di relazione parlava dell'effetto eco, agire per una transizione ecologica e uno sviluppo sostenibile, ma in che termine vorreste entrare in gioco? Allora, innanzitutto credo che questo sia importante perché riuscire a consegnare il nostro territorio alle generazioni future, ai giovani, magari consegnarglielo almeno uguale, non dico meglio, ma almeno uguale credo che sia importante. Quindi l'impegno del Consorzio BIM è finalizzato a far sì che le amministrazioni comunali, comuni, comunità montane e galla, che sono gli organismi con i quali ci interfacciamo, investano in risparmio energetico, investano in green in un certo senso e qui noi siamo disposti a fare dei finanziamenti proprio per questi obiettivi. Credo che sia una cosa importante, sia una cosa di tutti. Un tempo avevamo il protocollo di Ghiotto 20-20-20, però alla fine non è che abbiamo ottenuto grandi risultati. Credo che ora il 30-30-30 speriamo che sia migliore. Quindi Consorzio BIM investe in particolare, apprezza e finalizza ben volentieri quei progetti finalizzati green, in particolare il risparmio energetico. Sempre nella sua relazione lei ha fatto riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha accennato a uno sviluppo di ben 5-6 temi. Ce li vuole riassumere come vengono suddivisi queste mission che lei sottolinea principali? Sì, le mission sono le sei mission del PNRR, quindi che ormai gli amministratori conoscono sicuramente. Il problema che noi come Consorzio BIM avevamo notato e constatato era che per poter usufruire di questi finanziamenti sono indispensabili almeno due cose. Cose che i piccoli comuni, guarda caso, non avevano, ad esempio i comuni sotto i 5 mila abitanti. Innanzitutto una risorsa per la consulenza iniziale e per i progetti di fattibilità. La seconda era avere i tecnici a disposizione, cosa che i piccoli comuni assolutamente non hanno. Allora in un incontro in provincia dove abbiamo proposto quest'idea di dire che il Consorzio BIM si sostituisce ai piccoli comuni e finanzia per conto loro parte dei costi di progettazione di consulenza, ma l'importante è che i comuni non perdano questa opportunità di portare a casa risorse. E quindi questo è stato fatto, il Presidente della provincia ha sposato immediatamente quest'idea e l'ha allargata a tutto il territorio provinciale, infatti ha inviato una lettera ai sindaci chiedendo un contributo di 60 centesimi pro capite, quota che il Consorzio BIM per i suoi 127 comuni andrà a pagare direttamente. Tra l'altro quest'idea è stata sposata anche dall'altro BIM, il BIM Oglio, perché in provincia di Bergamo abbiamo due BIM. Quello che io rappresento è il BIM Brembo Serio Lago di Como, sono 127 comuni, 4 comunità montane, 3 Gala ed è tutta la Val Seriana, tutta la Val Brembana, tutta la Val Limagna, l'ex comunità montana Val San Martino e 24 comuni rivieraschi dell'isola Bergamasca. Il BIM Oglio, che ha sempre sede a Bergamo, ma rappresenta la Val di Scalve, la Val Calepio, la Val Cavallina e diciamo quella parte di zona là e alcuni comuni dell'Alta Val Seriana. Fatta questa precisazione, dicevo, quindi l'idea è quella di far sì che questi piccoli comuni non perdano opportunità, perché poi non va dimenticato che il PNRR scade nel 10.026, vale a dire che le opere devono essere finite, ricontontabilizzate, quindi era importante. Ora il Presidente della provincia Gandolfi è intervenuto alla nostra Assemblea precisando che assumerà 30 tecnici e altri 10 in collaborazione con Regione Lombardia e metterà in piedi questa struttura, questo ufficio per poter dare le consulenze indispensabili, fare i progetti di fattibilità e nella speranza di portare risorse sulla provincia di Bergamo. Abbiamo anche chiesto che per le tre comunità montane che noi rappresentiamo, Val Seriana, Val Brembana e Val Limagna, almeno vi sia una rappresentanza settimanale di un giorno a settimana nei territori di competenza, quindi i comuni sono più facilitati senza scendere sempre a Bergamo. Direi che è un'attenzione particolare che potrebbe sicuramente dare ai suoi frutti, vista che spesso e volentieri la realtà montana formata da una miriade di piccoli comuni viene dimenticata oppure non ha la possibilità sia economica che tecnica di sviluppare progettazioni e ben altro. Ma venendo ancora alla sua relazione, lei ha fatto riferimento al disegno di legge montagna che dopo dieci anni dovrebbe vedere la luce. Quali sono le ombre e le luci di questo nuovo disegno di legge che evidenzia da parte del governo una attenzione nuova, senza precedenti come lei accenna, verso i territori di montagna e soprattutto la loro gente, visto che rischiamo lo spopolamento? Allora, innanzitutto io ringrazio il Ministro Gelmini per due motivi. Il primo per aver avuto l'idea, il coraggio, l'iniziativa e averlo portato a termine e aver presentato questa legge, perché la legge di prima è la 97 del 94, quindi ormai quasi 30 anni. Ci sono state poi piccole rettifiche, piccoli contributi, anche all'interno delle leggi piccoli comuni che vi erano qualche risorsa. Qui oggi invece abbiamo una legge che è già qualcosa, è un passo, non è la perfezione e adesso andrò a precisare. Il secondo motivo che ringrazio è avervi dato l'opportunità nella parte iniziale di essere stato coinvolto nel suggerire alcune iniziative. Faccio l'esempio, nella mia relazione della scorsa assemblea dell'ottobre del 21 facevo presente che era importante per mantenere i medici sul territorio di montagna vi fossero degli incentivi vari, magari anche finanziari, dei crediti d'imposta. Questo è stato recepito, però non credo che sia sufficiente, perché un medico che ha un reddito che bene o male gravita intorno ai 100 mila euro, dagli uno sconto di 2.500 euro, non credo che lo faccia decidere di stare a lavorare in montagna. Forse servirà qualche stimolo. Sono stati aggiunti maestri, è un problema che forse in provincia di Bergamo non è così impellente, l'abbiamo magari di più sui professori, deve stare in territorio. Sono state fatte delle belle iniziative, agevolazioni sui mutui per chi ha meno di 41 anni, le imprese che decidono di fare. Però non sono state discusse alcune cose che noi come BIM avevamo chiesto. Innanzitutto il ruolo del consorzio BIM che è importante, perché oggi che gestisce in regione Lombardia abbiamo ancora le comunità montane, unica regione che le ha tenute. Quindi abbiamo la gestione del territorio, le comunità montane, i consorzi BIM, i GAL, gli Enti Parco, i consorzi forestali, abbiamo diverse cose. È vero che ognuna di loro ha delle affidità ben diverse, ma era importante precisare qual era il ruolo del consorzio BIM. Ad esempio nel caso specifico lei accennava prima che noi siamo la cassaforte dei territori di montagna. È vero, perché io come presidente del BIM sono l'uomo più ricercato degli amministratori pubblici, perché? Perché dispongo di risorse, quindi sicuramente. Però è chiaro che se il consorzio BIM decidesse di fare iniziative, le può fare. Poi abbiamo un presidente che si dà da fare in comunità montana, ne abbiamo un altro nel Gale e così via, si potrebbero rubare il mestiere. Meglio che siano tutti attivi, ma comunque credo sia importante chiarire il ruolo di questi enti di montagna e quindi indirizzare. Ma anche perché? Perché c'è chi fa, c'è chi strafà, ma c'è anche chi vegeta e quindi per noi era importante anche questo. Seconda cosa, per lo sviluppo dei territori di montagna e fermare le moragie dello spopolamento della gente di montagna servono in particolare due cose. I servizi e qualcosa si sta facendo. Meno burocrazia, che è importante, perché la burocrazia è un costo, e soprattutto posti di lavoro. Ora noi abbiamo nei piccoli comuni di montagna delle attività che sono di solito svolte da imprese familiari e quindi una famiglia è lì, tranquillamente vive a un suo giusto reddito, ma che invece vengono vessati dal fisco e dalla burocrazia. Quando invece a queste imprese, la bottega, l'artigiano di servizio, il parrucchiere, la tintoria, l'officina meccanica eccetera eccetera, ne abbiamo diverse e soprattutto i commercianti, i bar e il ristorante, fanno un servizio alla collettività. Il bar è l'unico centro d'aggregazione dopo la chiesa, perché se dovessero mancare anche le vocazioni non avremmo più nessun centro di aggregazione in un piccolo comune e diventa un comune dormitorio e nientà. Quindi ad esempio sotto l'aspetto fiscale una fiscalità di vantaggio è indispensabile per queste imprese nei territori di montagna. Stabilire quant'è il costo annuale comprensivo della presentazione della contabilità e quindi risparmiano sui costi di consulenza. Le quote pensionistiche, le quote a tassa della Camera e del commercio e tutte le tasse fiscali evidentemente in maniera forfettaria uno il primo gennaio sa già quanto gli costa e quindi entro fine anno dice io accetto questa scommessa e mantengo la mia attività. Si adopera e quindi una famiglia non si muove, resta lì e magari anzi qualcuno viene volentieri. Chi investe invece deve avere altre agevolazioni, altri incrementi perché il giovane che parte è vero che ha tutta la buona volontà di restare, però alla fine per ottenere un finanziamento deve portare le garanzie e non tutti i genitori possono portare le garanzie ai propri figli perché serve per iniziare un'attività oltre le idee, oltre la voglia di lavorare servono gli investimenti per attrezzature macchinari. Quindi anche sotto questo aspetto andrebbe discusso. Quindi questa è una categoria importante. Non è stato discusso, non si è parlato assolutamente di dissesto idrogeologico, che è una cosa importante anche questa, quindi dei piani, delle programmazioni, delle risorse. È vero che sono state messe un po' di risorse perché nel 2021 avevamo 29 milioni e mezzo di risorse, per il 22 sono stati messi 100 milioni, per il 23 200 e vedremo per il futuro. Quindi ripeto, qualcosa è stato fatto, ma ci sono ancora alcune cose che devono essere fatte. La nostra assemblea ha deciso di presentare un documento al Ministro dove andremo a chiedere integrazione di alcune voci di richieste e in settimana vedremo di terminare questo documento assieme ad alcuni rappresentanti delle varie zone del nostro consorzio e presentarlo al Ministro nella speranza che venga accolto. Per il momento la ringrazio. Una pausa di pubblicità, poi riprendiamo subito con lei Presidente. Grazie.